Contribuire a rilanciare ulteriormente un'associazione di categoria che rappresenta un settore vitale, una voce importante del Pile della provincia di Frascinone, ma anche offrire un segnale di continuità rispetto alla recente governance di Pietro Greco per permettere al comparto di uscire definitivamente dal tunnel della crisi e della stagnazione. E' molto giovane e arriva dalla provincia di Rieti il nuovo direttore provinciale di Frascinone della Col di Retti. Carlo Picchi si è insediato ufficialmente il primo gennaio ma sono bastate due settimane per effettuare una breve e sommaria ricognizione sul territorio provinciale dalla quale ha tratto utili e significativi riscontri. Ho trovato una provincia molto diversa nell'ambito dell'agricoltura, si passa dall'olivicoltura al tabacco, agli ortaggi, alla zootecnia, c'è un pochino di tutto. Io farò del tutto per mettere a disposizione quella che è la mia professionalità al servizio del territorio, al servizio dei produttori della provincia di Frosinone, degli associati col diretti per aiutare a sviluppare e a aumentare quello che è il reddito dell'agricoltura dei produttori agricoli locali. Un'altra mission sarà consolidare il rapporto con il territorio e dunque con le sue articolazioni istituzionali. C'è molto entusiasmo e molta voglia di fare quindi penso che insieme si possa collaborare e fare sicuramente molto bene. Abbiamo diverse aziende che sono in sofferenza forte. Alla Valle del Sacco quindi con il mio consiglio provinciale butteremo giù quella che è una nostra diciamo strategia per andare a rivitalizzare questo territorio, a rivalorizzare quelli che sono i prodotti locali. Il battesimo ufficiale di Picchi alla guida della Col di Retti Social ci sarà il 27 gennaio ad Aquino che ospiterà la tradizionale e molto sentita giornata del ringraziamento. La giornata del ringraziamento è una tradizione per la Col di Retti, è una giornata che viene comunque promossa dalla CEI, dalla conferenza episcopale italiana e ci sarà la messa alle ore 11, dopodiché la benedizione dei mezzi e ringrazieremo come tutti gli anni il Signore per il raccolto che ci ha dato augurandoci che sarà profigo anche la stagione del 2019.